Le donne manipolatrici sono quelle donne che si muovono soltanto per interesse personale, fanno tutto ciò che li può portare un tornaconto e per questo cercano di sfruttare le altre persone, di sfruttare le amiche per farsi scorrazzare in giro, magari per conoscere altri maschi, hanno la tendenza con le altre donne a voler apparire sempre più belle e quindi cercano anche di seminare zizzagne quando vedono che magari una donna può essere interessata ad un uomo, ma non tanto per togliergli l'uomo o per prenderselo lei, perché una donna manipolatrice normalmente ha anche un forte egocentrismo per cui vuole essere sempre lei al centro dell'attenzione, vuole che se ci sono dei maschi gli occhi siano puntati su di lei e allora in qualche modo cercano sempre di squalificare le altre donne che le cercano, in modo subdolo magari, magari raccontando al maschio delle mezze battute, cercando di sfruttare le amiche, si dimostrano sorridenti anche se però lasciano trapelare la gelosia spesso. E invece con i maschi cercano di acquisire fascino, di avere fondamentalmente dei cavalieri serventi che possano essere sempre disponibili a chiamata in modo tale che hanno sempre uno stuolo di corteggiatori di fatto insomma e cercano di manipolare uno o l'altro semplicemente per soddisfare le loro esigenze che poi prevalentemente sono esigenze narcisistiche, però alle volte possono anche essere esigenze di pratiche materiali di altra natura. Intanto sia per le donne sia per gli uomini non conviene avere questo tipo di amicizie, però è interessante giocare perché è abbastanza facile manipolare la manipolatrice. Come si fa a manipolare la manipolatrice? Bisogna seguire il suo sistema, il suo stratagemma e quindi lei cadrà nella rete stessa che lei ha atteso, perché nel momento in cui lei vuole seminare le zizzagne, tu devi dargli modo di seminare le zizzagne, però devi dargli dei falsi indizi, indizi proprio falsi. Ad esempio se sei una donna e noti ad esempio di uno che non ti interessa, che però vedi che lei, la manipolatrice diciamo butta gli occhi addosso, la prendi da parte una volta e le dici guarda ma ti voglio fare una confidenza perché tu sei una persona veramente affidabile di te mi fido, e così soddisfi il suo egocentrismo. C'è Tizio che mi sta facendo una corte spietata, sto ricevendo matti di fiori ed ho avuto alcuni indizi che non sono certa, ma che deve essere lui, perché mi ha lasciato un bigliettino con et invento particolari, che possono essere le iniziali, qualche cosa, credo che sia follemente innamorato di me, poi non so, mi guarda sempre, pensa che mi sono arrivati dei fasci di rose rosse proprio, e ti inventi tutta una storia, insomma, oppure mi ha lasciato sulla macchina un pacchetto con, che non so, ti inventi qualche cosa, insomma, in modo tale che lei intanto abbia un'invidia tremenda, però l'indizio ovviamente è un indizio falso, e le dici però dobbiamo capire se questa persona è veramente quella che mi sta facendo queste cose, perché io non so, tu magari se lo conosci potresti sondare un attimo il terreno, vedere un attimo il terreno, in questo modo la destabilizzi completamente, lei cercherà di agire nei confronti di questa persona, ma nel momento in cui agirà nei confronti di questa persona, visto che tu l'hai destrutturata a livello emotivo praticamente, e si manifesterà in modo ampliato, per cui marcatamente ad esempio parlerà male di te, ma lo farà in modo talmente eccedente che il maschio praticamente si renderà conto subito con che tipo di persona ha a che fare, perché perderà le staffe, perderà i gangheri, e allora magari andrà a dirgli, ah so che tu sei innamorato di questa, farà delle scenate, delle cose strane insomma, ma in modo palese anche perché non riuscirà più a ragionare, è una persona manipolatrice quando non riesce più a ragionare, già il ragionamento ce l'ha scarso di suo, ma quando non riesce più a ragionare fa delle cose talmente eclatanti per cui tutti gli altri la maschera, e quindi questo signore diciamo si renderà subito conto che persona ha a che fare. Se tu sei un maschio invece e hai una donna manipolatrice che vuoi insomma manipolare tu a tua volta, oltre a usare la tecnica del falso indizio, che in questo caso potresti usarla di una donna, che in qualche modo ti fa delle avance, però potresti anche usare un'altra strategia, nel senso di far finta di accettare, diciamo, che ne so, lei ti vuol manipolare, adesso facciamo un esempio semplice, perché vuol farsi accompagnare da qualche parte, vuol farsi scarrozzare da qualche parte, allora insomma ti fa un invito, poi magari vuol pure scorcare, diciamo, l'ingresso nel locale, eccetera. Tu fai finta di abboccare, di essere felice, di essere contento, e poi all'ultimo, proprio poco tempo prima, le dai buca, le dai buca dicendo che ti ha telefonato e ti inventi il nome di un'altra donna, che lei conosceva, mi ha telefonato la mia amica, che devo purtroppo portarla, perché è un impegno urgente, che si è rotta la macchina e doveva andare un compleanno importante, allora mi ha invitato, sai così anche tanto ne approfitto, perché ci sono anche persone interessanti, che possono anche essermi utili per il lavoro, conoscerli, perché è un ambiente d'elite, e ti inventi tutta questa storia per cui il messaggio comunque che le fai passare è che se lei di fatto ti vuole avere deve introdurti in amicizie importanti che possono aiutarti per il tuo lavoro, quindi le dai, diciamo, un indizio su cosa fare se la prossima volta vuole manipolarti per ottenere qualche cosa da te. In questo caso, ho fatto l'esempio delle conoscenze, però tu devi mettere quello che potenzialmente ti possa interessare, potresti anche dire, ah perché sai, lei è una donna molto focosa, ogni volta, poi dopo mi fa passare una notte infuocata per dire, se ti interessa poi l'aspetto sessuale, insomma, le dai l'esca fondamentalmente, le dici come se dicessi, se vuoi manipolarmi devi fare questo, e avendole dato buca lei si sentirà anche spiazzata, per cui anche qua andrà di nuovo fuori dal tipo di ragionamento logico-razionale che normalmente metti in atto, per cui tenderà agli eccessi, cioè la regola fondamentale è che le persone manipolatrici quando vengono destrutturate a livello logico tendono a dare l'eccesso, quindi potrebbe pure saltarti addosso, diciamo, per dimostrare di essere una femmina focosa. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ti invito a seguirmi sul blog http www.seduzionovip.com. Ciao!